parliamo di equazioni differenziali in chimica e in fisica quindi con applicazione nella chimica fisica il primo problema è il seguente in un gas la velocità dell'aumento di volume è direttamente proporzionale al volume stesso trovare il volume vt sapendo che le condizioni iniziali sono che al tempo 0 il volume vale v con 0 velocità di aumento del volume la derivata della velocità rispetto al tempo rappresenta la velocità di aumento del volume e quindi è v primo anche si può indicare l'eguaglianza è questa la velocità di aumento del volume è direttamente proporzionale al volume stesso io scrivo questa relazione qui ho indicato il significato dei termini adesso cosa faccio il volume va al denominatore sul lato sinistro e dt lo porto sul lato destro di questa relazione e a questo punto scritto in questa forma posso integrare i miei membri devo trovare la primitiva di questa funzione 1 su v che è 1 sul volume ricordiamo k è una costante si porta fuori ed è il logaritmo del modulo di v ma il volume è positivo parliamo di logaritmo del volume qui abbiamo invece kt come primitiva scriverò che il logaritmo del volume è uguale a kt più c con 1 per definizione di logaritmo il volume è elevato a kt più c con 1 ma questa somma di addendi diciamo all'esponente equivale a un prodotto di elevato a kt per elevato a c con 1 ma il c con 1 si può chiamare c quindi abbiamo che il volume in funzione del tempo è uguale ad elevato a kt per c il problema di cosci si risolve ricordando che al tempo 0 il volume vale v con 0 sostituirò il tempo 0 qui e qui il volume v con 0 e ricaverò la costante c che vale v con 0 quindi possiamo dire che la legge che lega il volume al tempo è la seguente v uguale a v 0 per elevato a kt a questo grafico al tempo 0 vale v con 0 il tempo è maggiore di 0 crescente e la derivata prima è positiva e rappresenta questo aumento che direttamente è proporzionale al volume stesso aumento di velocità del volume cioè la velocità di aumento del volume abbiamo detto il testo parlava di velocità di aumento del volume direttamente proporzionale al volume stesso qui finisce il problema problema 2 all'istante 0 sia n 0 il numero di atomi di una sostanza radioattiva sia poi n t il numero di atomi rimasti non disintegrati al tempo t noi parliamo quindi di n 0 e di n t n 0 numero di atomi di una sostanza radioattiva ed n t il numero di atomi non disintegrati all'istante t la velocità di disintegrazione è in ogni istante proporzionale all'aumento e al numero n t di atomi integri non disintegrati quindi la velocità di disintegrazione si indica come d n su dt questa la chiamiamo velocità di disintegrazione e parla di di proporzionalità in ogni istante al numero n con t e questa è la proporzionalità la possiamo scrivere quindi questa velocità di disintegrazione direttamente proporzionale n t mettiamo il segno meno perché la funzione è decrescente e sappiamo che la tabella di modonia da una derivata prima negativa se la funzione n è una funzione decrescente questa è la derivata prima di n k è positivo n t è il numero di atomi non disintegrati all'istante t k è la costante di decadimento e d n su dt è la velocità di disintegrazione il segno meno è necessario per perché n t è una funzione diciamo decrescente nel tempo e la sua derivata deve essere negativa ricordando il significato che ha il segno della derivata prima nella tabella di modonia indicando gli intervalli di crescenza e decrescenza della funzione a seconda del segno domanda determinare il numero n t di atomi non disintegrati all'istante t questa è la domanda che poneva il quesito atomi non disintegrati quindi questa relazione che devo scrivere a questo punto n la porto a sinistra il denominatore dt va a destra e lo stesso procedimento adoperato nel problema precedente avrò questa equazione differenziale del primo ordine e qui abbiamo un logaritmo di n qui abbiamo meno kt quindi logaritmo di n t uguale a meno kt più c con 1 la forma corretta è la seguente stiamo ripercorrendo dei passaggi fatti nel problema numero 1 e n t e c per elevato a meno kt per trovare c impongo il problema cioè risolvo il problema di cosci imponendo che al tempo 0 n 0 uguale a n 0 n al t 0 uguale a n 0 quindi scriverò questa relazione quindi avrò che n al tempo t uguale a n 0 per elevato a meno kt quindi questa legge è una legge decrescente ecco qui sarebbe giusto porre naturalmente il tempo t sull'asse delle ascisse e qui poniamo sull'asse delle ordinate n t che rappresenta il numero di atomi non disintegrati quindi al tempo 0 abbiamo n 0 e al tempo t n t vediamo che decrescono nel tempo tendono a 0 questo è un asinto orizzontale l'asse delle ascisse è interessante esaminare questo grafico ricordando che il segno meno sull'esponente fa sì che la funzione sia decrescente prima il segno più indicava invece una crescenza nel problema numero 1 problema numero 3 in un moto la velocità v è direttamente proporzionale all'accelerazione a determinare legge di oraria spazio funzione del tempo quindi velocità direttamente proporzionale da ma la velocità è s primo e la derivata dello spazio rispetto al tempo e l'accelerazione s secondo quindi questa relazione equivale a questa ricordando appunto che se porto tutto a sinistra si può scrivere a destra questa relazione che è un'equazione differenziale del secondo ordine omogenea omogenea questo termine uguale a 0 dopo il segno di eguaglianza ricordiamo l'equazione caratteristica sostenuta appunto a derivata seconda di s lambda quadro e lambda alla derivata prima naturalmente questa equazione la risolvo trovando lambda 1 e lambda 2 lambda 1 uguale a 0 lambda 2 uguale a 1 su k e questo ci consente di scrivere l'integrale generale che è il seguente lo spazio funzione del tempo è c con 1 per elevato a lambda 1 t più c con 2 per elevato a lambda 2 t 1 valeva un lambda 1 valeva 1 su k un lambda 2 valeva 0 alla fine abbiamo che e alla 0 fa 1 e quindi questa è la legge oraria di questo modo che abbiamo appena descritto il problema è che non conosciamo c1 e c2 per poter trovare due costanti dobbiamo risolvere il problema di cosci occorrono due condizioni il problema 4 dice invece determinare il modo di un punto sapendo che la sua accelerazione è lineare ecco l'accelerazione è la derivata seconda dello spazio uguale a t più b questa è una legge lineare s secondo ed s primo di s primo su di t quindi sostituisco qui di s primo su di t e risolvo questa integrale molto semplicemente ponendo s primo come primitiva e qui ponendo come primitiva di questa e a t 4 mezzi più b t più c con 1 ricordiamo che a e b sono delle costanti quindi vanno fuori dal segno di integrale questa è la primitiva diciamo abbiamo trovato quindi la derivata prima dello spazio che poi rappresenta la velocità in fisica ma s primo di s su di t faccio lo stesso ragionamento di capo leggi orari che è la seguente in cui compaiono due costanti c1 e c2 leggi orari del modo appena descritto per le miei c1 e c2 possiamo per esempio chiedere che sono soddisfatte le condizioni iniziali cioè al tempo 0 vt0 uguale a v0 e lo spazio al tempo 0 uguale a 0 al tempo 0 due condizioni per trovare due costanti quindi lo spazio è data questa relazione pongo 0 naturalmente qui e ricavo che c1 per 0 che fa 1 più c2 è uguale a naturalmente quello che noi abbiamo chiamato s0 noi abbiamo detto che al tempo 0 lo spazio è uguale a 0 quindi qui possiamo ancora completare facciamo questo passaggio scrivendo uguale a 0 perché ricordiamo che s0 deve essere uguale a 0 l'abbiamo detto prima ecco l'abbiamo scritto qui quindi la derivata prima dello spazio e la velocità pongo il tempo 0 al posto di t e scopro che s è uguale a v0 che c1 da questa relazione viene fuori proprio questo che c1 è uguale a k per v0 perché lo ricaviamo da qui se questa relazione è uguale a v0 questo vale 1 naturalmente c1 è k per v0 quindi abbiamo due condizioni ricordiamo che le costanti sono due nella legge oraria quindi occorrono due condizioni per trovare c1 e c2 la prima è questa c1 più c2 uguale a 0 la ricavo da qua quindi potremmo dire che questa è la 1 chiamiamola la condizione questa è la prima e la seconda la ricavo da qua questa è la 2 queste due condizioni le ho messe qui a sistema e risolverò il sistema troverò c1 e c2 ecco la legge oraria è questa che soddisfa le condizioni appena dette quindi k per v0 per elevato a t su k meno 1 problema 5 una pallina di massa m è collegata con un estremo libero ad una molla di costante elastica k il piano su cui poggio la pallina è privo di attrito un piano liscio se la pallina viene spostata alla sua posizione di equilibrio su di s agisce la forza di richiamo elastica meno kx o meno ks io ho scritto è una gradezza vettoriale f uguale a meno ks ricordiamo che il modo avviene nella direzione indicata determiniamo legge oraria a spazio tempo quindi io ho questo riferimento la posizione di riposo è questa ho preso la massa e l'ho spostata verso destra e l'ho portata in questa condizione iniziale quindi al tempo t uguale a 0 questo è importante noi abbiamo uno spazio s0 che è questa distanza e la possiamo indicare in questo modo quindi s0 è quello che è indicato in rosso questa e la forza di richiamo meno ks quindi la massa è riportata indietro nella sua posizione di equilibrio da questa forza di richiamo però è importante ricordare le condizioni iniziali l'origine è la posizione in cui la massa era inizialmente quindi io l'ho spostata verso destra e dicono che al tempo 0 partiamo da una situazione in cui s è uguale a s0 quello che chiamiamo problema di Cauchy allora risolvo f uguale a m per a ma ricordiamo che a è la derivata seconda di s quindi m per s secondo uguale a meno ks quindi forza elastica uguale a m per s secondo questa è un'equazione differenziale omogenea del secondo ordine k su m altro non è che omega quadro quella che si chiama pulsazione e t è 2 pi greco su omega quello che noi chiamiamo periodo queste sono le condizioni del problema di Cauchy e quindi alla fine abbiamo tradotto l'equazione differenziale del secondo ordine omogenea al tempo 0 lo spazio è uguale a s0 abbiamo detto che la massa parte dalla posizione s0 rispetto all'origine e la velocità al tempo 0 uguale a v con 0 noi stiamo imponendo per esempio delle condizioni potremmo anche dire che la velocità al tempo 0 è uguale a 0 noi poniamo delle condizioni le equazioni caratteristiche associate l'anda quadro più omega uguale a 0 ricavo l'anda quadro uguale a meno omega e praticamente l'anda è più o meno radice di omega che si può scrivere come radice di meno 1 per radice di omega ma radice di meno 1 corrisponde all'unità immaginaria i quindi è più o meno radice di omega per i ricordiamo che il numero complesso si scrive in forma alfa più i beta parte reale e parte immaginaria quindi alfa in questo caso per questo numero è 0 e beta è radice di omega e quindi l'integraio generale è il seguente spazio funzionale nel tempo uguale a c con 1 per il coseno di omega t più c con 2 per il seno di omega t quindi praticamente ecco qui abbiamo messo quello che rappresentava ecco ricordiamo che alfa risulta essere 0 questo è molto importante per trovare c1 e c2 imponiamo due condizioni ricordiamo che nell'integraio generale in questo caso è la legge oraria per trovare due costanti occorrono due condizioni per trovare una costante occorre una condizione quindi al tempo 0 lo spazio uguale a s0 sostituendo ricavo che devo porre il tempo 0 quindi ho coseno di 0, seno di 0 che annulla questo secondo addendo quindi qui abbiamo c con 1 uguale a s0 la velocità al tempo 0 poniamo che sia uguale a v con 0 ci sono delle condizioni che imponiamo noi potremmo dire che parte con velocità nulla al tempo 0 e chiaramente ecco in questo caso la velocità è data da questa ho fatto la derivata legge oraria da questa espressione devo sostituire lo 0 al posto di t e porre qui v0 facendo questi calcoli ricaviamo che c con 2 è v0 su omega quindi abbiamo ricavato c con 1 e c con 2 li sostituiamo qui quindi v0 su omega e c con 2 e c con 1 corrisponde a s0 questa è la legge oraria che soddisfa le condizioni iniziali spesso si ricorda questa altra forma molto più semplice lo spazio uguale nel tempo dato da per il seno di omega t più fi qui c'è appunto una pulsazione omega questa è la funzione trasformata del seno dove abbiamo una traslazione e abbiamo anche un periodo t pari a 2 pi greco fratto omega ecco non è più 2 pi greco è un'ampiezza di oscillazione che non è più 1 ma si tratta di un valore maggiore di 1 ossia è maggiore di 1 naturalmente ma il seno di alfa più beta la formula di pubblicazione è sen alfa cosen beta più sen beta cosen alfa quindi questo ci va a dire che questo seno omega t più fi si può scrivere in questa forma e se torniamo indietro noi abbiamo questa secondo membro deve essere quindi guardiamo bene questo secondo membro deve essere equivalente a questo sviluppo a questo quindi qui abbiamo seno omega t e ce l'abbiamo anche prima qui abbiamo coseno omega t e ce l'abbiamo anche prima torniamo indietro quindi seno omega t coseno omega t quindi qui abbiamo un s0 e un v con 0 su omega che sono diciamo delle relazioni che corrispondono agli altri valori che abbiamo in questo momento sono questi cosen fi e naturalmente v0 su a per omega e sen fi e s0 fratto a affinché i due secondi membri possano essere uguali si devono eguagliare questi due termini ai precedenti ampiezza di oscillazione e fi fase in base a questo modello la massa oscilla senza mai fermarsi diciamo che con questa ultima slide terminiamo la video lezione abbiamo presentato ecco diciamo a 360 gradi delle applicazioni delle equazioni differenziali a problemi di fisica di chimica ma soprattutto abbiamo visto come si imposta un modello matematico che faccia uso di equazioni differenziali per poter risolvere naturalmente un problema di fisica fine della video lezione grazie a tutti